Allora, dico, senti un po', il test di oggi, che cosa è? Per me è stato un test positivo, ho visto la mia squadra esprimere un calcio importante, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' più fatica, però sono contento, sono contento perché il risultato è poco importante onestamente, perché se abbiamo iniziato da 12 giorni, io sono uno che generalmente non è che guarda tanto il risultato in generale, figuriamoci ad agosto, però sono contento, sono contento perché secondo me abbiamo espresso un'ottima molle di gioco, fino a quando siamo stati lucidi abbiamo espresso un buon gioco. Senti, le vostre aspirazioni quali sono? Quelle di andare in serie e dico? Noi proviamo a vincere, è normale che si deve sempre avere l'ambizione di vincere, però è normale, ci sono anche gli altri, noi giochiamo un girone complicatissimo. Giusto una parola per il Matisse? No, no, ho visto una squadra dove ci sono degli amici, ho ricamato un ragazzo che ha iniziato con me, posso dire. Gli auguro le migliori fortune, è una bella realtà, fino all'anno scorso l'allenatore era un allenatore con il quale io ho un legame, aveva avuto un legame particolare perché l'ho avuto come un allenatore a benafro e quindi gli auguro con le migliori fortune. Un buon cammino. Grazie mille lupo, grazie.